Ammonta a 461.000 euro la somma indebitamente elargita dallo Stato a 47 residenti nel Ragusano che avevano presentato domanda per la percezione del reddito di cittadinanza pur non avendone diritto, non presentando i necessari requisiti previsti per legge. Sono quindi scattate le denunce da parte della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini tra i soggetti per i quali è stata proposta la revoca del beneficio, 12 di essi sono risultati abituali giocatori su varie piattaforme di gioco online arrivando a scommettere addirittura centinaia di migliaia di euro utilizzando fonti di reddito evidentemente nascoste al fisco. Tra questi, particolarmente emblematica, risulta la posizione di un uomo di Ragusa individuato quale percettore di reddito di cittadinanza tra aprile 2019 e novembre 2020 per circa 22.000 euro che è risultato aver utilizzato nello stesso periodo vincite al gioco per circa 400.000 euro. A Pozzallo è stato individuato quale indebito percettore del reddito di cittadinanza un intero nucleo familiare in cui tutti i componenti risultavano giocatori abituali su piattaforme digitali arrivando addirittura a vincere sui propri conti di gioco più di 140.000 euro, circostanza omessa nelle comunicazioni all'Inps. Altri 11 indebitamente percettori del reddito di cittadinanza non avevano comunicato il possesso di beni immobili di valore nettamente superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente per accedere al beneficio, mentre altre quattro persone sono state denunciate in quanto avevano omesso di autocertificare l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata superiore ai limiti consentiti. Infine c'era anche chi lavorava in nero o arrotondava spacciando sostanze stupefacenti.